ciao vi presento il mio menu planner che è nato perché bisognava fare la spesa una volta a settimana io ero abituata a farla tre volte a settimana e soprattutto mi ero stufata di dover indovinare tutte le volte che cosa preparare da mangiare per i miei familiari allora ho pensato bene dai organizziamo mettiamo insieme tutti i piatti che di solito facciamo e una volta a settimana organizziamo tutta tutti 14 pasti allora cosa ho fatto ho suddiviso i cibi che di solito cucino in varie categorie carne pesce verdura legumi uova formaggi e special special sono le cose un po gustose così che di solito non si fanno sempre non so abbiamo il kebab che lo ordiniamo la serata greca adesso non si può fare la faremo quando tutto sarà più tranquillo il anche il pranzo cino già non lo possiamo fare adesso però i tacos in casa li facciamo i toast li possiamo fare le tigelle con gli affettati li possiamo fare tortellini in brodo pure queste sono le cose un po più così da festa poi ci sono altri piatti per esempio quelli più facili l'arrosto in voltini con gli spinaci vustere crauti e di carne poi abbiamo anche qualcosa col pesce con gamberetti e zucchine le cozze ma anche la verdura che bisogna un po cercare di aumentare di cui dobbiamo aumentare la presenza nella nostra dieta varie zuppe con la zucca il gatto di patate che non è proprio verdura l'abbiamo messo qui la pasta al pesto che non è proprio verdura ma l'abbiamo messo qui il riso e funghi poi abbiamo anche un po di legumi anche questi dobbiamo un po imparare a mangiarne di più pasta pescello e prosciutto l'humus con le verdure le polpette di fagioli quindi se avete delle ricette da darmi io le prendo e così insieme tutte le volte una volta settimana tutte le settimane decidiamo insieme la suddivisione dei piatti come vedete hanno due tagliandini il primo indica se carne pesce verdura special in modo che ci siano tanti colori un po diversi per variare un po invece il secondo il secondo tagliandino ha un significato un po più semplice ci dice se per esempio è un primo piatto considerato un primo piatto come questo qui l'ha passato di verdure o se è considerato un un secondo come questo la grigliata oppure se lo consideriamo come un piatto unico come per esempio non so la pasta al salmone visto che c'è se il carbidrati sono i carboidrati ma anche le proteine del salmone e così cerchiamo di organizzare di mangiare in maniera un po varia e oltretutto così avendo tutta la settimana programmata io cosa faccio posso organizzarmi per fare la mia spesa settimanale e ho fatto preparato una lista suddividendo già nell'ordine in cui io trovo le cose quando vado al supermercato quindi prima trovo la verdura poi i freschi la pasta le farine eccetera le conserve tutto lo scatolame le cose per le pulizie della casa le cose per la pulizia di persona così avendo già la lista pronta tutto in ordine io arrivo col mio carrello super ferrari e vrum 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 ho fatto la faccio la spesa abbastanza in fretta così me ne vado subito questo è stato il mio modo per affrontare un po questo questa quarantena è un po laborioso però io mi diverto con questi progetti un po cervellottici spero che possa essere di ispirazione per qualcuno aiutare qualcun altro a organizzarsi vi saluto baci abbracci da laura ciao